Benvenuti, questo è il Manicomio dei Sani! C'è scritto sopra un muro, con il sangue delle sue mani. Qui c'è scritto sopra, benvenuti, questo è il Manicomio dei Sani! Ancora una volta, sotto il shot! Bruno Power, la musica, Ivan Caldo, la voce, Mervato e il santo, andiamo! E' la bottenza, la musica che sento, è del bastardo detto! La musica che sento, è del bastardo detto! Il ragazzo suona bene! 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 Per un ragazzo suona bene! Per un ragazzo suona bene! Ciao, Fabio! Per ora, ciao! 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 Ciao!